Io sono scioccato, allibito, cioè dopo aver visto una partita del genere, uno scempio del genere, un'agonia del genere, cioè se fosse una società seria, perché adesso ho i miei dubbi che questa sia una società seria, se fino ad adesso li ho sempre elogiati, ma da gennaio in poi non ne stanno azzeccando una, cioè è inutile che Rose vai che mi fa il comunicato l'altro giorno, capiamo l'umore dei tifosi, proprio per questo abbiamo preso questa decisione popolare. No, voi avete distrutto tutto, perché questo è buttare via una stagione, perché fino ad adesso avete fatto delle cose buone, delle cose buone e tu cosa vai a fare? Esonerare Tesser, per cosa? Qualche partita negativa. Voi adesso, se avete un minimo di coerenza, dovreste prendere questo allenatore da quattro soldi, perché questo allenatore manco in promozione può allenare, prenderlo e cacciarlo. È vero, le coop non sono sue, però un allenatore che anche oggi sbaglia la formazione, perché tu non puoi andare a giocare con l'umenzane con quattro attaccanti, cioè diciamo mezzi attaccanti, perché ha giocato con Ezra Rack, Durso, Redan e Lescano. E voi sapete benissimo come la penso, cioè io sono sempre stato per il calcio propositivo, ma questo è proprio l'estremo, cioè qua sembrava veramente di vedere Zeeman, cioè tutti in avanti, dietro lasciavamo dei buchi allucinanti, cioè l'umenzane ripartiva come volevano loro, cioè noi poi siamo nulla, siamo nulla davanti, cioè è inutile che mi metti quattro attaccanti davanti e non hai idea, non hai idea, questa squadra non ha idea, non sa fare col pallone, cioè ogni tanto si inventano qualcosa, Durso lasciamo perdere, lasciamo perdere, cioè quest'anno sì, eh ma ho fatto tanti assi, ma non me ne frega, cioè è un giocatore troppo discontinuo, no, troppo fumantino, no, troppo innamorato del pallone, no, 300.000 tocchi, 300.000 tocchi e non danno via mai il pallone, perde palla, cioè lì davanti siamo nulla ragazzi, poi dietro lasciamo stare, cioè oggi abbiamo preso tre gol veramente imbarazzanti, imbarazzanti, la difesa non chiude, lasciamo dei buchi, buchi allucinanti, cioè complimenti, eh, complimenti società, dai adesso menta e stella, dai adesso andate in conferenza a parlare, dai voglio sentire cosa dite, e meno male che la colpa di Tesser qua, no, no, Tesser, Tesser con questi qua, un miracolo, un miracolo, doveste chiedere scusa a Tesser, cioè Tesser non meritava questo trattamento, non meritava questo trattamento, cioè adesso la situazione è veramente catastrofica, 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 perché domenica prossima abbiamo il Vicenza, andiamo a giocare a Vicenza, eh, il Vicenza ha i tuoi stessi punti e tu avevi 12 punti di vantaggio sul Vicenza, ci siamo fatti rimontare come dei polli, ma non è per tanto il Vicenza, siamo stati noi, no, ci siamo fatti aracchieri da soli, perché hai perso punti con la propatria, boh, lasciamo perdere il Mantua, perché il Mantua sta facendo un campionato a sé, campionato ormai il Mantua, ciaone, ma tu, tu hai perso con Renate, hai perso oggi contro questi scappati di casa, perché questi sono scappati di casa, dopo hai perso con le Binolefe, hai pareggiato con le Pargoletese, cioè, tu non vinci con queste squadre, vuol dire che c'è un, cioè, per me, il problema a livello mentale, cioè, si è visto anche con i gol che abbiamo preso, cioè, il gol del 2-0 è proprio l'emblema che questa squadra a livello mentale non c'è più, non c'è più, cioè, basta, siamo calati, siamo andati, quindi, cioè, una punizione come quella, una punizione come quella, io l'avrei parata anche con una mano, così l'avrei parata, così l'avrei parata, ma, cioè, per carità, Mattosevic, vi ho sempre detto che non mi ha dato quella sensazione, soprattutto nelle uscite, ma quella punizione l'ha, tu devi andare con cattiveria, invece voi lì, bon, così, proprio, oh, circa, no, quel che zè, no, cioè, proprio, cioè, vedi, vedi veramente i giocatori che non si impegnano, e allora, se voi veramente non vi interessa, toglietevi la maglia della tristina e andatevene via, e andatevene via, perché non siete degni di indossare i nostri colori, non siete degni, cioè, veramente, anche quando ripartivamo, soprattutto nel primo, tempo, c'è proprio una leziosità disumana, cioè, a me queste cose mi fanno incazzare, mi fanno incazzare, perché se non avete voglia, se non avete voglia, andatevene via, voi e anche la società, anche tu, Menta, vattene via da Trieste, anche tu, Rosenzweig, abbiamo capito che a te della triestina non ti interessa niente, tu vuoi solo guadagnare, cioè, è inutile girarci attorno, è inutile, cioè, tu, tu vuoi prendere i giocatori e dopo li rivenderai, ma di portare la triestina in Serie B, a te non te ne frega niente, non te ne frega niente, e noi tifosi non ci mettiamo tutto questo, perché da tifoso della triestina, essendo di Trieste, fa malissimo, fa malissimo, cioè, speravo, dicevo, cavolo, finalmente una società che veramente vuole investire, vuole portare la triestina ad alti livelli, e evidentemente non è così, mi sono sbagliato, cioè, non è che mi sono illuso, perché, con questa squadra qua, era veramente difficile andare in Serie B, Tesser ha fatto un miracolo, è stare agganciato lì, a quelle zone, eh, poi, e chiaramente, anche lui ha preteso dei rinforzi, perché la squadra andava rinforzata, loro non hanno fatto nulla, e i nodi stanno vedendo il pettine, cioè, i nostri limiti si stanno vedendo, si stanno vedendo, anche se fino a dicembre la triestina non è che giocava malissimo, cioè, non è che faceva questo gran calcio, però, sì, bisogna anche dire che le partite le vincevamo un po', un po' così, eh, diciamo un po' per il rotto della cuffia, eh, perché all'andata con Lumezzana abbiamo vinto per un tiro da fuori, eh, però oggi non ci abbiamo più capito un cazzo, però, e da un mese è che non vinciamo una partita, da un mese, dalla vittoria di Vercelli, eh, ormai siamo crollati definitivamente, non ci siamo più con la testa, cioè, i due gol, secondo il tempo che abbiamo preso, cioè, la papara di Matosevic, dice, poi anche, abbiamo preso due gol su due panni inattive, cioè, la difesa fa, posso capire che ci sono alcune defezioni, no, vedi anche l'infortunio di Struna, ma l'uomo che non è in perfette condizioni, però, cioè, non si può lasciare tutto questo spazio, tutto questo spazio a una squadra come Lumezzana, eh, con tutto il rispetto, cioè, non è concepibile, non è concepibile, quindi, eh, veramente, la situazione è grave, gravissima, cioè, possiamo partire con il Vicenza, se sono queste, se questo è l'andazzo, ho paura che le prenderemo anche di brutto dal Vicenza, eh, perché Vicenza è in forma, e la quarta vittoria che fa, noi, e quattro partiti che perdiamo, cioè, non abbiamo dato la svolta adesso, perché se questo allenatore non è riuscito a dare una sveglia a questi giocatori, cioè, ragazzi, io, cioè, chiudiamo tutto, andiamo in vacanza a questo punto, cioè, allora cosa ci andiamo a fare in campo? Ecco, cioè, io, io farei una cosa sola, richiamerei Tesser, però so che non è possibile, perché Tesser, poi bisogna vedere se tornerebbe, poi bisogna vedere anche la società, perché la società si è fatto un autogol cremoroso, un autogol, della partita cosa c'è da dire? C'è da dire poco, cioè, anche oggi cambi senza senso, cioè, ha messo, ha cambiato i due terzini, Germano e Ciofani, e ha messo Pavlev e quell'altro Petrasso, cioè, cambi alla cazzo di Canna, cioè, tu stai perdendo 2-0, tu stai perdendo 2-0, e mi togli un attaccante e mi metto un difesore, cioè, questi sono cambi così, fatti così alla cazzo di Canna, perché non esiste, non esiste togli un attaccante e mettere un difesore, cioè, tu stai perdendo, cioè, ormai questo allenatore, ormai, a parte che noi in fase di possesso, giocavamo a 2-0 al centrocampo, cioè, tu non puoi mettermi in una... Io sono sempre stato per il calcio propositivo, per giocare all'attacco, ma così è troppo, troppo estremo, anche perché così ti esponi troppo, perché non hai giocatori che riescono a rinculare facilmente, perché, ecco, il centrocampo a 2, sei esposto veramente a dei contropiedi allucinanti, e dopo chiaramente, cioè, se lasci tutti questi spazi, soprattutto anche nelle pali inattive, che lì le marcature ce le perdiamo, cioè, marchiamo male, cioè, poi da un allenatore che sinceramente è allenato solo in Moldavia, non è che mi sorprendo, cioè, se tu vai a prendere un allenatore che è allenato in Moldavia, significa che di calcio non capisci un cazzo, cioè, questo non ha mai allenato la serie C, e questi qua, ok, tu puoi avere tutte le ragioni del mondo, non vai d'accordo più con te, ma almeno vai a prendere un attore di esperienza, cioè, che ha almeno calcato i campi della serie C, che almeno un minimo di serie C ne intende, questo, cioè, questo nel 2016 ha allenato noi per otto partite, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, come buttare via una stagione? Come buttare via una stagione? Cioè, tutti dovrebbero andare a casa, cioè, l'allenatore, i giocatori, perché i giocatori si vede che non hanno voglia di fare un cazzo, cioè, proprio, non... E poi anche la società, cioè, la società, secondo me, è la prima responsabile di questo schifo, perché a febbraio non puoi elionare tessere, cioè, non... Le crisi ci possono stare, però non è detto che Tessere non sarebbe stato in grado di sollevare, cioè, non puoi prendere un neo-allenatore, perché questo stiamo parlando di un neo-allenatore, cioè, allenato in Moldavia, con tutto il rispetto, cioè, non esiste proprio, cioè, zero schemi, zero idee, perché arriviamo lì davanti, tanto, tanto possesso paglia, no? Però io, come ho sempre detto, è un possesso paglia sterile, cioè, è inutile che mi fai 3.000 passaggi, tic-tac, poi tornavamo indietro, cioè, è una squadra che non sa cosa fare, cioè, non ci sono idee, dopo arrivavi lì negli ultimi 30 metri, non tiravamo in porta, cioè, noi non abbiamo fatto neanche un tiro in porta, cioè, io, parate pericolose del portiere avversario, non ne ho viste, eh! Magari, ecco, forse uno dei meno peggio, oggi, se devo salvare qualcuno, e va all'occhia, cioè, quando è entrato lui, ha provato a dare un po' di brio alla manovra, lui ha provato a fare qualche tiro, anche l'Escano, ma... non avendo lì davanti, cioè, non puoi mettermi qua quattro mezze punte, perché Redana, secondo me, non è una punta, non può fare la punta, Durso è un trequartista che dovrebbe aiutare il centrocampo, e non mi sembra che lo stia facendo, e Lezara, che è anche lui, che è uno che ama svariare su tutto il fronte d'attacco, e così non hai copertura, eh, lì dietro, perché si vede che siamo ballerini là dietro, cioè, è troppo su me, cioè, io sono sempre stato uno per il calcio propositivo, no? Cioè, ho sempre ammirato, no, gli allenatori che giocano all'attacco, ma così è veramente l'estremo, eh! Così sembra di vedere Zeeman, no? Cioè, Zeeman, per chi sa, un minimo, Zeeman gli si è sempre criticato la fase difensiva, che è tutto in attacco e dietro, però balli dietro, è così. Niente, Muloni, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, perché comunque fa un favore a me, mettermi piace al video, ma la crisi continua, la crisi continua, e adesso arriva, cioè, ci aspetta il Vicenza, e facciamoci il segno della croce, perché se noi entriamo con questo atteggiamento, anche con il Vicenza, altro che tre oggi, altro che tre, ne prendiamo altri dieci, altri dieci. Buona domenica, Muloni, sempre forza Triestina, io il futuro, non vedo un bel futuro per l'Unione, cioè, è inutile che il Presidente mi parli, eh, sono positivo per il futuro, eh, capisco i tifosi, ma che futuro, se sono queste le premesse, ciao Muloni, ciao Muloni, è domenica, eh, la vedo, la vedo sai mai, ma mai, mai, mai proprio, perché se questo è andazzo, qua, 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 secondo me, ormai è terzo posto, se andà, perché, ok, adesso mi pari punti con il Vicenza, però, stanno arrivando anche quelle dietro, eh, il Lumezzane, da te ha meno 5, e l'Atalanta, andate in 23, bisogna vedere cosa farà oggi, però, qua, rischiamo addirittura di arrivare a quinti sesti, eh, se questo è andazzo, buona domenica a tutti, Muloni, e sempre Forza Unione, ma,